Siamo arrivati a tutti i miei presenti, siamo arrivati a tutti i miei presenti. Siamo arrivati a tutti i miei presenti, siamo arrivati a tutti i miei presenti. Grandissimo campionato degli Angels, sono 25 su 25, è scattata la festa. Gloriano, cosa dire sulla grandissima festa Angels? Che è meritatissima e che se la devono godere fino in fondo dall'inizio alla fine cantano We Are The Champions. Adesso ci sono anche i quini sottofondo ed è giusto che sia così perché Sant'Arcangelo questa festa se la merita e deve essere una festa straordinaria perché sono 25 vittorie su 25. Ci sono le magliette celebrative e adesso Sant'Arcangelo se la deve godere tutta. Noi chiudiamo qui la telecronica, naturalmente spazio poi alle interviste e alle immagini del dopo partita. Vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa sera. Vedete le immagini della festa, non ci rimane altro che fare i complimenti a questo Sant'Arcangelo per la partita, per la promozione, per la stagione. Noi vi salutiamo, il punteggio finale di questa partita, Sant'Arcangelo 92, Imola 73, un saluto a tutti da parte di Loriano Zannori. E Simone Stargiotti, Dominio Angels, rieccoci. E Simone Stargiotti, Dominio Angels, rieccoci. E Simone Stargiotti, Dominio Angels, rieccoci. E abbiamo veramente pensato una partita alla volta di riuscire a fare altri esercizi. Un coro, un coro, un coro. Ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo in Serie C, Serie C, Serie C. Ce ne andiamo, ce ne andiamo in Serie C, Serie C, Serie C.